Buongiorno, ben trovati, appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani. Partiamo dal santo del giorno che viene ricordato nella giornata del 4 febbraio. Si tratta di San Giuseppe, desideri da Leonessa, prigioniero dei Turchi a Costantinopoli. Fra Giuseppe era arrestato per tre giorni appeso ad una croce per un piede e per una mano e non era morto. Dio solo sa come riuscisse a sopravvivere a quel supplizio e come si rimarginassero le sue terribili ferite. Si parlò dell'intervento miracoloso di un angelo che avrebbe sostenuto il suo corpo e curato le sue piaghe. Certo non era facile spiegare in altro modo quella resistenza che sfidava tutte le leggi naturali, comprese quelle terribilmente logiche della tortura. E fu quasi un miracolo che il sultano fosse ammirato per l'accaduto e che comutasse la pena di morte con l'esilio perpetuo. Il santo San Giuseppe, desideri da Leonessa, visse per diversi anni a Costantinopoli, poi tornò in Italia. Era nato nel 1566 a Leonessa e nella cittadina Umbra, dal fiero nome nei pressi di Spoleto, era entrato sedicenne tra i cappuccini della riforma, mutando il nome di Eufrasio desiderato in quello dell'umile sposo della Vergine. aveva compiuto il proprio noviziato nel convento delle carceri sopra Assisi, in quella piega boscosa del Subasio. Si era temprato alla più dura penitenza e alla più rigorosa astinenza. E poi il 55enne si infermò ritirandosi nel convento di Amatrice, gli venne diagnosticato un tumore, si tentò di operarlo. Dio sa come, quello fu il secondo supplizio della sua vita. Rifiutò di essere legato, come suggerivano i medici, e non si sollevò più dal letto chirurgico come anestetico. Si era stretto al petto lungamente il crocifisso. Dunque questo è il ricordo di San Giuseppe da Leonessa, che viene ricordato nella giornata di oggi, appunto il 4 febbraio. Noi apriamo la nostra rassegna stampa, come sempre partendo dal centro, le prime pagine delle quattro edizioni. Partiamo da quella di Pescara, l'apertura non poteva che anche oggi essere dedicata alla vicenda dell'aeroporto, all'allarme posti di lavoro, perché il possibile e probabile addio di Ryanair fa tremare gli operatori economici, i dipendenti e tutto l'indotto. E poi la fotonotizia, ultima ora a Pescara, auto in fiamme in Viale Bovio, nella zona di Via Ronchi. C'è stato questo incendio e ci sono state anche delle piccole esplosioni, indagini in corso. E poi nelle cronache, canale, l'arte pasticcera rivivrà l'alberghiero, donati macchinari, aula intestata al famoso pasticcere di Pescara. E poi analisi ancora pessime, mare e fiume, allarme per l'inquinamento. E poi a Montesilvano cresce la città adriatica, la cittadina adriatica, 10.000 persone in più. Lasciamo la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro. Andiamo a vedere insieme l'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto. In questo caso il primo titolo riguarda una notizia di cronaca, perché Fido trova l'osso di un cadavere, il giallo a Torino di Sangro, l'omero mandato all'Istituto di Medicina Legale, proprio per le analisi e gli accertamenti. Vedete in alto poi un titolo di rilevanza nazionale, Padre Pio, folla di fedeli, tanta emozione all'arrivo a Roma delle spoglie del Santo. Ieri avevamo seguito anche noi il tratto abruzzese di questo viaggio dalla Puglia nel Lazio. E poi tra poco vedremo anche un servizio che abbiamo realizzato. Tornando alla prima pagina del centro, edizione di Chieti, vediamo anche alcuni titoli delle cronache. Chieti, il progetto casa di riposo turca nell'area dell'ex Burgo. E poi Marino non si trova, il processo slitta, l'ex sindaco di Roma irreperibile. E poi frate in confessionale con i poteri di un Papa, Padre Tito, Paolo da Fossa Cessia. Lasciamo l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro. Passiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Teramo. Poi come sempre chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. E l'edizione di Teramo del centro, la prima notizia è quella del silenzioso addio al piccolo Gioele. Ricorderete, bambino di appena due anni morto, l'altro ieri caduto dal trattore. E poi Ictus e Aneurismo, scusate, salvati due giovani, il primario di radiologia, dice ecco perché resto. Dunque parliamo del primario dell'ospedale di Teramo. E poi a proposito di sanità, protesta il sindaco, la ASL chiude la cucina dell'ospedale di Atri. E poi Bancomat Manomessi con la forchetta, rubati 300 euro. Infine a Giulianova settimana corta in campo, il fronte del sì. E chiudiamo come abbiamo detto con il centro, l'edizione dell'Aquila, di Avezzano e Sulmona. Poi passeremo alla prima pagina del messaggero, daremo uno sguardo anche ai titoli di carattere nazionale. Partiamo però, anzi chiudiamo con la prima pagina del centro, l'edizione dell'Aquila. Trappola sessuale su Facebook, Lecce dei Marsi, due giovani denunciano il ricatto, pagate o pubblico i video. E poi l'Aquila, le catacombe alla scoperta dei nascondigli, dei cristiani. E poi nelle cronache, sempre l'Aquila, sanità manager dell'ASL, spunta il nome di Maraldo. E poi petizione per tornare all'antica processione del venerdì santo a Sulmona. Infine tornando all'Aquila, parlando di sport, l'orgoglio dei tifosi stricioni per l'Aquila. Il popolo rosso-blu scende in strada. Lasciamo allora la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero per vedere quali sono i titoli di carattere nazionale del quotidiano di Roma. Vediamo la prima pagina con il titolo che riguarda lo scandalo affitti. Sacco di Roma, denuncia del prefetto Tronca. Il Campidoglio ogni anno perde 100 milioni per le locazioni irrisorie. Poi vedete questa notizia, la foto tragica che arriva dall'Egitto, dal Cairo, dalla capitale, perché è stato trovato morto in un fosso. Lo studente italiano scomparso stava preparando proprio in Egitto la tesi di laurea. Questo studente Giulio Reggeni, 28enne, di origine friulana. È stato ritrovato il suo corpo nella giornata di ieri alla periferia del Cairo. E poi politica, unioni civili, ultimatum del Movimento 5 Stelle. Se il testo cambia, non votiamo. E poi vediamo qualche altro titolo. In basso ritroviamo il titolo che riguarda Padre Pio blindato, fedeli in fila fino all'alba per l'arrivo della Salma, del feretro di Padre Pio a Roma. Vediamo le pagine interne. Affitti, Roma perde 100 milioni l'anno, la beffa case fantasma e caccia ai risarcimenti. E poi tre inchieste ed un fascicolo dimenticato, l'esposto dell'ingegnere investigatore in fino e fondo pagina, interni di lusso dietro facciate scalcinate e inviaturati, un fabbro subaffitta ai cinesi. E poi ancora lo scandalo sedi di partito, morosità e prezzi stracciati. Se le Fratelli d'Italia pagano 12,91 euro per i locali di Via delle Terme di Traiano. Per la storica sezione dei giubbonari, il PD deve al Comune 170 mila euro di arretrati. Scandolo affitti dunque a Roma. Pagina 4, si parla di flessibilità, Padoan in pressing sull'Unione Europea. Juncker dice non ci sarà austerità stupida. Il Ministro dell'Economia chiede decisioni rapide per evitare incertezze. Prima apertura del Presidente della Commissione. E oggi le nuove stime europee. Per Roma l'incognita è il 2017. Andiamo in basso. Renzi incassa la frenata di Bruxelles e dice il vento sta girando. Il Premier deciso a superare l'asso franco tedesco. Italia isolata ma che non possono fare. A meno di noi. Migranti. L'Italia alza il tiro. Già spesi più di 9 miliardi. Ma il tesoro precisa. Nessuna richiesta aggiuntiva. Margine pari allo 0,2 del PIL. Il Governo vuole che siano riconosciuti i maggiori costi scattati con la crisi libica. Andiamo ancora avanti. Si parla di economia. Di economia in questo caso economia italiana ma economia in generale. Perché quelle europee stanno vivendo un periodo sicuramente negativo da inizio anno. Borse quasi sempre con chiusura con il segno meno. Milano torna ai livelli del 2013. Anche ieri una chiusura pesante. Asia e petrolio in alta lena affondano i listini. Piazza Affari perde il 2,85%. Pesa il giudizio di Citigroup. L'euro ai massimi da ottobre sul dollaro. Dopo i dati deboli americani. Rally finale per il greggio sopra i 32 dollari al Barile e Wall Street. E poi c'è il decreto banche verso lo slittamento. Nodi da sciogliere sulle sofferenze. Banca Etruria, 17 milioni di consulenze anomale. Le fatture superiori alle somme deliberate. E siamo alla politica. Le unioni civili, il Movimento 5 Stelle tuona. Se il testo cambia non lo votiamo. Il Partito Democratico in allarme. Anche Alfano in fibrillazione traumatica. Una maggioranza assieme ai 5 Stelle, dice il Ministro degli Interni e il leader di NCD. Rischio voti segreti. Zanda, Sondera, Grasso. I grillini però sono divisi. Oggi deciderà l'Assemblea. E poi in basso vedete consigli regionali. Via libera alla legge. Sulle quote rosa dalle prossime elezioni. Almeno il 40% degli eletti dovrà essere di sesso femminile. Andiamo avanti. Sì, i pediatri. Adozioni gay rischiose. Ma psichiatri e psicologi rispondono. È falso. Scontro tra le organizzazioni dei medici. La società italiana di pediatria si schiera. Mencacci dice ciò che conta è la capacità affettiva dei genitori. Verso il bambino. Andiamo ancora avanti. Pagina 11. Quell'autority sull'infanzia. Ha sopravvissuto a tutti i tagli. Grasso e Boldrini alle prese con il rinnovo del garante. Ma è stallo sulle candidature. Una poltroncina che vale un milione e mezzo l'anno per fare relazioni. E convegni. Proseguiamo. Oggi tutte a Colonia. Le donne si mobilitano dopo le aggressioni di Capodanno. L'imbarazzo delle autorità tedesche. L'iniziativa partita dalle colonne del messaggero. Ribelliamoci alla violenza. E poi ci sono delle testimonianze. E Valeria Fedeli dice che non c'è antirazzismo che non sia antisessista. Poi Mara Carfagna, esponente politico di Forza Italia ed ex ministro. Dobbiamo essere libere di vivere come vogliamo. E poi Anna Zattoni. Il taglio della cravatta come gesto catartico. Infine Lella Golfo. Chiediamo rispetto e non protezione. Proseguiamo. Politica internazionale. Obama uno schiaffo a Trump. Prima visita a una moschea americana. L'attacco a una religione è contro tutte. Dice Obama. A voi dico grazie. Repubblicani Wall Street scarica Jebush e punta su Rubio. E poi il caso armeni. Pace diplomatica. Turchia. Vaticano. E siamo alla notizia che abbiamo ritrovato. Scusate anche in prima pagina questa notizia tragica che arriva dall'Egitto, dal Cairo perché è stato trovato morto lo studente italiano che era scomparso. Al Cairo conclusione tragica delle ricerche del 28enne Giulio Regeni. Il cadavere era in un fosso sul corpo segni di tortura. La farnesina è prudente ma la famiglia è stata già avvertita. Adesso il governo italiano chiede di partecipare alle indagini. E vedete poi c'è questa testimonianza e il ritratto di questo ragazzo. Il Medio Oriente era la sua grande passione. Era proprio in Egitto a preparare la tesi di laurea. Andiamo in basso. Si parla di Zika, di questa infezione. Stop alle trasfusioni negli Stati Uniti. Si trasmette per via sessuale vietato donare sangue al ritorno da zone a rischio. Donna contagiata dal partner che era stato in Venezuela. Proseguiamo. Ecco il titolo che riguarda l'arrivo della Salma di Padre Pio a Roma. L'abbraccio di migliaia di fedeli. Frate santificato da Voitila non venne mai nella capitale. Domani le sue spoglie in processione dal Verano a San Pietro. E come detto, ieri noi abbiamo seguito questo viaggio da San Giovanni Rotondo fino a Roma. Ovviamente nel passaggio lungo le strade della nostra regione, in particolare lungo l'autostrada 14, nei pressi di Francavilla al mare, dell'autogrill, dell'area di servizio a lento est. Abbiamo ascoltato anche un'importante testimonianza. Vediamo il servizio. Le spoglie di San Pio da Pietralcina hanno lasciato questa mattina la basilica, lui intitolata San Giovanni Rotondo, in direzione di Roma, dove sono arrivate nella basilica di San Lorenzo al Verano. Intorno alle 16 di questo pomeriggio, venerdì 5, saranno trasportate nella basilica di San Pietro in Vaticano. L'arrivo oggi a Roma è stato seguito da una liturgia di accoglienza delle reliquie di San Pio e di San Leopoldo Mandic, presieduta da frate Gianfranco Palmisani, ministro provinciale dei frati minori Cappuccini della provincia romana. Per il trasporto sono state messe in campo misure del tutto simili a quelle previste per i capi di Stato, con tanto di non-fly zone su San Giovanni Rotondo e su Foggia. Sono stati circa 500 i chilometri percorsi per arrivare nella capitale ed il trasporto delle reliquie è stato scortato da uomini delle forze dell'ordine. Oggi al passaggio del corteo lungo l'autostrada 14, in territorio di Francavilla al mare, presso l'area di servizio a lento est, poco prima delle 14, abbiamo intercettato, mentre era in viaggio verso la capitale, padre Carlo Maria Laborde, frate superiore dei gruppi di preghiera di padre Pio. È stato molto emozionante perché abbiamo visto soprattutto la risposta della gente che dovunque esce fuori ad aspettare il passaggio di padre Pio, quindi è commovente vedere come il popolo di Dio si sente richiamato da questo fatto e risponde con grande generosità. Due Cappuccini che vengono celebrati a Roma, entrambi hanno dedicato la propria vita alla misericordia? Sì, è proprio per quello che Papa Francesco ha voluto la loro presenza a Roma in occasione proprio del Giubileo, proprio perché sono stati due Santi che vicini a noi nel tempo e tutti e due contemporanei che hanno consacrato tutta la loro vita proprio al servizio del Ministero della Confessione, della Penitenza, quindi sono veramente due esempi meravigliosi in questo senso. È commovente questa risposta popolare durante questo splendido viaggio? È già bello vedere come la gente spontaneamente, senza nessun tipo di organizzazione particolare, è andata incontro proprio per salutare, per soffermarsi un attimo dinanzi alle spoglie di padre Pio, quindi forse più di quanto non ci aspettavamo. È un messaggio sempre attuale quello di padre Pio? Il padre Pio è un santo amatissimo dal popolo di Dio, lo stesso anche San Leopollo, quindi credo che la gente risponde spontaneamente proprio perché nutre questo affetto, questa devozione, questo amore per padre Pio, quindi senza essere richiamata spontaneamente va incontro a padre Pio, nella speranza di poter vederlo, di poter quasi toccarlo in questa circostanza. Andiamo avanti, andiamo in basso, sempre sulla pagina del messaggero. Scuola dei magistrati, dopo le proteste salta la lezione della brigatista Faranda. L'incontro previsto a Scandici anche con Bonisoli, annullato perché ritenuto inopportuno. E poi ancora si parla di scuola di università, in questo caso legittimo per il giudice l'Ateneo Romeno Adenna, ma il ministro Giannini attacca per noi quei corsi, restano non autorizzati. E siamo alle pagine dell'economia auto, raddoppiano i limiti anti-smog e poi in basso Fiat, Kleiser Automobile, arrivano i premi di produzione in media 1.300 euro. E poi Anzaldo, la Consob, alza il prezzo dell'Opa. E poi per quanto riguarda ancora l'economia si parla del paniere Istat perché tatuaggi e leggings entrano nel paniere dell'Istat, aggiornate le voci monitorate per verificare il costo della vita fuori vagoni letto e cucette tra le new entry, anche bermuda e bevande vegetali. L'inflazione a gennaio è scesa dello 0,2%. Allora siamo arrivati all'inserto macro del messaggero, andiamo a vedere le pagine nazionali del centro e poi alle 7.20, tra qualche minuto, tra pochissimi minuti, ovviamente apriremo la pagina del meteo con il nostro Giovanni De Palma. Allora vediamo le pagine nazionali del centro. Unioni Civili, lo scontro, Movimento 5 Stelle, sia la legge se non è impoverita e poi multati perché rifiutiamo i finanziamenti, 5 Stelle contro un emendamento d'EM che prevede sanzioni a chi non presenta il bilancio. E poi in basso, caso Ballarò, la RAI mi può cacciare, non il PD, Giannini, conduttore di Ballarò, Massimo Giannini, replica a chi chiede il suo licenziamento per le critiche e al Ministro Boschi. E poi salute fisco, sanità via i ticket per 203 prestazioni, ora le pagheremo. E poi Tari, che sale del 55% in 5 anni, un aumento da 3 miliardi. E poi Istat, abbiamo visto anche dalle pagine del messaggero, tatuaggi e leggings nelle paniere dell'Istat, proprio per vedere lo stato degli italiani, soprattutto sotto l'aspetto economico. Andiamo avanti, Europa, emergenza frontiere, crisi migranti, ok 3 miliardi per la Turchia, ma l'Italia chiede ancora flessibilità e rilancia via dal deficit spese da inizio della crisi libica. E poi la polemica che continua tra Renzi e l'Unione Europea, Renzi tira dritto, l'Unione è statica dopo l'Africa, missione in Olanda per incontrare il Premier Root, spettro procedura d'infrazione. Andiamo ancora avanti, migliaia di fedeli in preghiera, siamo a Roma, Padre Pio, a Roma da santo del popolo, le spoglie del Padre Cappuccino per una settimana al centro delle celebrazioni del Giubileo per volontà di Papa Francesco, amato e avversato, si dice che predisse il papato a Papa Voitila. Andiamo ancora avanti, le croneche dall'Italia, Pozzuoli, l'atroce confessione del quarantenne che ha ridotto in gravi condizioni la compagna dandole fuoco, poi morto l'italiano scomparso al Cairo, il corpo dello studente friulano Giulio Reggeni era in un fosso alla periferia della capitale. E poi lezione annullata per la Faranda, la scuola della magistratura fa un passo indietro e poi infezione da Zika, l'Europa stanzia fondi per la ricerca. Infine Messina, mafia, arresti per 17 vecchi omicidi, casi legati ad un'antica faida tra famiglie di Cosa Nostra. Allora siamo arrivati alle pagine d'Abruzzo del centro, sono le 7.20, dobbiamo aprire la pagina invece che riguarda il meteo come ogni mattina, lo facciamo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, brutto tempo, vento, pioggia questa notte, anche questa mattina in molte zone della regione, mi sembra di capire che ci sia stato anche un abbassamento della temperatura. Sì Paolo, lo avevamo già annunciato nei giorni scorsi, una perturbazione proveniente dalle isole britanniche che praticamente ha favorito l'arrivo di masse d'aria fredda proprio sulle regioni adriagiche dove il tempo è peggiorato, quindi anche sulla nostra regione da stanotte ci sono verificati dei rovesci che nelle prossime ore proseguiranno, soprattutto sul settore centro orientale della nostra regione, saranno accompagnati da un ulteriore rinforzo dei venti, dai quadranti settentrionali che ovviamente favoriranno un'ulteriore progressiva diminuzione delle temperature. La diminuzione è sensibile rispetto ai giorni scorsi perché se da un lato fino a ieri i valori erano ben al di sopra delle medie stagionali, nelle prossime ore si passerà a temperature al di sotto delle medie stagionali e la diminuzione delle temperature porterà anche una discesa della quota neve che probabilmente raggiungerà le zone altocollinari, insomma sui 5-600 metri soprattutto sul versante orientale e ridosso delle zone montuose. Rovesci anche sulla Valle Peligna, qualche precipitazione ma di minore intensità anche nell'Aquilano, mentre nubi con delle schierite invece ci saranno presenti sulla Marsica. La tendenza Paolo è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio ma ancor più dalla serata e nel corso della giornata di domani, quindi si tratterà di un peggioramento piuttosto rapido che comunque favorirà un deciso rimescolamento delle masse d'aria nei bassi strati perché ovviamente l'alta pressione favorisce proprio un accumulo delle sostanze inquinanti nei grossi centri urbani, ma queste situazioni invece favoriscono la dispersione di queste sostanze inquinanti, quindi benvengano ogni tanto questi peggioramenti dato che negli ultimi tre mesi siamo stati frequentemente interessati da situazioni di alta pressione piuttosto persistenti. Paolo. Sì, un peggioramento dunque che durerà poco. Giovanni, per quanto riguarda i prossimi giorni invece cosa ci attende per quanto riguarda il tempo e soprattutto quale sarà l'andamento delle temperature? continuerà a far freddo oppure ci sarà un nuovo rialzo delle temperature? Allora, dopo il passaggio di questa perturbazione Paolo è prevista una nuova rimonta dell'alta pressione che garantirà tempo stabile soprattutto nella giornata di giovedì, venerdì e sabato con temperature in graduale ripresa. Poi altre temperature subiranno un ulteriore nuovo aumento a causa dell'arrivo dei venti dai quadranti occidentali perché arriveranno dei sistemi nuvolosi di origine atlantica che interesseranno gran parte delle regioni centrosettentrionali, quindi soprattutto nella giornata di domenica ma saranno preceduti da correnti più temperate provenienti dai quadranti occidentali che favoriranno un nuovo aumento delle temperature anche sulla nostra regione, Paolo. E dunque torneranno le temperature più alte nei prossimi giorni. Io ringrazio Giovanni De Palma come sempre per essere stato nostra compagnia. L'appuntamento per il meteo è sempre per domani intorno alle 7.20. Grazie Giovanni, buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma, dunque queste le previsioni per la giornata di oggi e anche per le prossime ore, ma per restare aggiornati abbiamo il sito www.abruzzometeo.org con tutti gli aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda la situazione meteo della nostra regione e poi c'è la pagina Facebook che potete utilizzare anche per interagire con il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Chiudiamo la parentesi meteo, torniamo alla lettura dei nostri quotidiani, siamo alle pagine di cronaca regionale, partiamo dal centro, scusate dal messaggero, pardon, caso Ryanair, mazzata sulla regione, pescare addio ai voli low cost, categorie in effibrillazione, si teme uno tsunami sull'economia, rischio isolamento dopo lo smacco dei porti sotto Ancona, Becci dice proviamo a trattenerli e poi Gioele ha battuto due volte la testa cadendo dal trattore, la tragedia di Canzano conferme dall'otopsia e poi Università dell'Aquila, 2000 studenti, nemmeno questi i numeri per quanto riguarda il nuovo anno partito già da qualche settimana. Poi terza corsia e aree di crisi, canale aperto con le Marche, ma sfuma la macro regione D'Affonso incontra Ceriscioli, presidente delle Marche, che oggi rivede Toscana ed Umbria, prove tecniche di alleanze variabili, priorità su Ferrovia e A14. E poi banda larga, diktat per i piccoli comuni, sbrigatevi se volete, internet veloce. Poi vedete una notizia che riguarda proprio il tempo, quello che diceva qualche istante fa Giovanni De Palma, torna il freddo, autostrade monitorate. Andiamo a vedere le pagine d'Abruzzo del centro, partiamo dalla prima pagina, anzi c'è una pagina passante proprio come potete vedere, che riguarda la questione Ryanair, addio Ryanair ma l'Abruzzo si può permettere di perderla questa la domanda. Le cause, le ripercussioni, le alternative alla low cost dopo l'annuncio dello stop alla base di Pescara, affinché resti occorre fare presto e accontentarla con forme compensative al caro tasse. Dunque ci sono diverse polemiche, operatori e dipendenti dicono sarà una catastrofe, aiuti di Stato, l'Europa indaghi su Pescara, ci sono due interrogazioni dell'Europarlamentare aiuto del Movimento 5 Stelle. Monticelli del PD dice interessano la gestione chiodi. Infine la CNA sbandiera conti da incubo. Le associazioni di categoria chiedono infatti un intervento del Governo regionale, ma sulla questione della Ryanair che potrebbe lasciare Pescara ma ci sono ancora dei mesi di tempo per evitare tutto questo. andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Parla il presidente Saga, Nicola Mattoscio. A 24 ore dalla notizia della riduzione dei voli dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo per volontà di Ryanair, dopo le tante polemiche e voci circolate, chiarisce subito qualche aspetto come quello dei mancati incontri con i vertici della compagnia di volo. I fatti dicono che è un falso clamoroso. Ryanair in realtà non aveva intenzione di incontrare nessuno perché aveva già assunto delle decisioni che ha comunicato a livello nazionale e continentale, peraltro sulla base di un contemporaneo comunicato fatto dal CEO di Ryanair a Dublino nelle prime ore della giornata di ieri, con cui si rendeva noto a tutto il mercato il cambiamento di strategia di mercato. La notizia di Pescara si aggiunge a quella di Cagliari, anche in quel caso Ryanair ha comunicato il taglio delle rotte, tagli che Ryanair motiva con l'aumento della tassazione imposta dal governo nazionale. Non so cosa intende fare la regione e la regione è un soggetto diverso e non ho titolo per interpretarne il pensiero e gli intentimenti. Posso dire quello che fa, che continuerà a fare la società saga, almeno finché ci sarà la mia presidenza. Noi abbiamo cambiato radicalmente la strategia industriale. Infine il futuro dello scalo di Pescara, il timore è quello del declassamento che subirebbe con la perdita di passeggeri. Meno voli uguale meno utenti, ma Ryanair, monopolista del low cost, chiede incentivi economici per garantire le sue tratte, ma l'Europa taglia i cosiddetti aiuti di Stato. Il tema è noto, la questione degli incentivi date a compagnia, a tutte le compagnie low cost europee, sappiamo che è argomento sensibile, sappiamo che è in materia disciplinata dalle linee guide dell'Unione Europea e di conseguenza sappiamo che è in materia anche poi normata dai singoli paesi in conseguenza di queste linee guide. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine della cronaca delle province, partiamo dal centro, cronaca di Pescara, allarme per mare e fiumi, con i batteri ancora alle stelle, superati i limiti anche nelle ultime analisi Arta, il caso più grave in via Balilla, la Capitaneria di Porto scopre 50 scarichi abusivi, li segnala alla Procura. Andiamo avanti, la cronaca, finiscono in trappola, tre manager della truffa si spacciavano per inviati di Costa Crociere, compravano vino a volontà in una cantina sociale di Miglianico e pagavano con assegni fasulli. Sono stati denunciati l'indagine della squadra mobile della Questura di Pescara e poi lo stalking incendiò la casa dell'ex, patteggia e rogo distrusse l'appartamento, salvi per miracolo la donna, il figlio e una nipote. Proseguiamo, bimbo travolto dal treno, la difesa punta sulle ferrovie, corte d'assise al via il processo, imputati genitori e nonno del bambino di tre anni che arrivò indisturbato sui binari. E poi la protesta nazionale, domani menze scolastiche chiuse per sciopero. Poi la proposta che arriva dai consiglieri comunali della lista Teodoro per Pescara, Pignoli e Pier Nicola Teodoro che hanno presentato questa proposta di istituire delle carte prepagate per aiutare gli indigenti. E poi in basso il mercato torna sulla strada Parco, l'area per la filovia disponibile fino al 31 marzo, lunedì sopra al luogo del comune, poi l'assegnazione dei posti. Proseguiamo, ancora un'altra pagina di Pescara, l'arte pasticcera di Canale rivivrà l'alberghiero, la famiglia dell'artigiano di Via Trento scomparso un mese fa. Domani donerà la sua attrezzatura agli studenti del De Cecco di Pescara. Proseguiamo, un team pescarese lavorò per Padre Pio proprio nei giorni, nelle ore in cui si parla tanto del santo di Pietrelcina per questo trasferimento a Roma delle reliquie per il Giubileo. Un team pescarese appunto si scopre che un team pescarese lavorò per Padre Pio in un vecchio carteggio scoperto dall'avvocato Domenico Colletti in retroscena della realizzazione della casa del sollievo, l'ospedale voluto proprio da Padre Pio. In basso nuovi premi all'Iron Man, il migliore evento dell'anno e oggi, cambiando argomento, in Via Italica un convegno sulla prevenzione cardiovascolare. Andiamo ancora avanti, costi della tassa sui rifiuti, imprese penalizzate dalla Tari troppo cara, Confcommercio svela uno studio e chiede sconti al Comune. Poi la vicenda degli ex interinali di Attiva è programmata per il 23 febbraio, una manifestazione e i lavoratori chiamano a raccolta anche i commercianti. Andiamo ancora avanti, le pagine dell'area metropolitana di Pescara, siamo a Francavilla, in questo caso nuova caserma, il sindaco Luciani tuona contro i ritardi e sollecita la prefettura per sbloccare le operazioni di trasferimento dei carabinieri da Via Maiella. Furto sventato in una abitazione. E poi ancora Francavilla, comuni virtuosi, domani la mozione in consiglio. Infine carnevale domenica, prima sfilata per il famoso carnevale di Francavilla. Siamo a Montesilvano, in 10 anni 10.000 abitanti in più, stranieri in aumento, case a prezzi convenienti, buona ospitalità, ecco le ragioni che fanno scegliere Montesilvano come luogo dove vivere. E poi il nuovo piano demaniale, i balneatori chiedono spiagge più sicure ed acque pulite. Fondo pagina, aiuti ai poveri, 11 quintali di cibo dai vigili. La Polizia Municipale consegna alla mensa di San Giovanni Bosco i prodotti raccolti durante l'epifania. Proseguiamo ancora le pagine di Pescara e Provincia. Partiamo dalla parte alta della pagina. Scontro tra due auto grave e un anziano che era stato investito l'altro ieri in via Vestina. E poi scopre il ladro e lo fa ciuffare, un cittadino assiste al furto in un negozio e segnala il tutto ai carabinieri. Poi aiuto, prendono la casa picconata, SOS su Facebook, due colpi segnalati in una palazzina a Santa Teresa di Spoltore. E poi in basso, ancora a Montesilvano, tre giorni di uncinetto e decoupage al Palacongressi. Infine Pianella, lavoro in agricoltura, un incontro al vecchio Silos. Siamo alla pagina di Penne Popoli e l'Alta Val Pescara. Anche qui partiamo dalla parte alta della pagina. Siti minerari, un sopralluogo per il bando. La regione risponde alle polemiche del sindaco di Scafa. E poi la cronaca. Capre e pecore soffocate nell'incendio di Sterpaglie. Popoli, fuoco e fumo raggiungono le baracche in lamiera usate per gli animali. Una parte del bestiame messa in salvo dai pompieri che hanno spento le fiamme. E poi Popoli, alla scuola Paulini, un'aula dedicata agli amici tedeschi. E poi a Loreto Prutino, in arrivo nuovi alberi, stop a potature selvagge. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Chieti del centro. Il giallo, Fido, riporta l'osso di un cadavere. Siamo a Torino di Sangro. Nella consueta passeggiata notturna il cane trova un omero. Potrebbe essere di un uomo scomparso. E poi Marino, non si trova l'udienza slitta, processo ad Angelini, a vuoto la convocazione spedita. L'ex sindaco in Senato. E poi a Bazzia di San Giovanni in Venere, padre Tito Paolo in confessionale con i poteri del Papa. Siamo all'Aquila, in questo caso nella Marsica però, alla pagina dell'Aquila. La trappola sexy scatta su Facebook. Giovani ripresi mentre si masturbano il ricatto. O mi date 2.000 euro o pubblico i video. Sul social network è stata scoperta dai carabinieri questa tentata truffa. Due ragazzi hanno presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Gioia dei Marsi. Si sospetta che anche altri coetani siano caduti nel tranello del finto profilo Facebook. E poi a Tagliacozzo, non hai soldi per il funerale, caos in paese, muore la madre e una donna, chiede aiuto al comune. Non riceve garanzie e va dai carabinieri. Infine in basso si parla dell'Aquila, nuovo manager, spunta il nome di Maraldo, oggi giunta regionale straordinaria all'Aquila. Cialente, il sindaco dell'Aquila dice che il prescelto dovrà rivitalizzare il settore. Siamo alla pagina di Teramo del centro, la tragedia di Canzano, l'addio a Gioele lontano dei clamori. Ieri a Bellante i funerali del bimbo caduto dal trattore guidato dal nonno, presenti solo i familiari e gli amici intimi. E poi il cordoglio e la commozione sui social, parole di vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo. Nessuno si permetta di giudicare. Siamo arrivati alle pagine di cultura, spettacolo e poi allo sport. Andiamo allora al messaggero per vedere anche qui le pagine di cronaca provinciale. Partiamo da Pescara, l'apertura anche in questo caso è sulla questione, sulla vicenda Ryanair. Salvate il soldato Ryanair, associazioni numeri sciocchi. In un anno perdiamo 200 milioni. Gli ex attiva, forti grazie all'aiuto della gente, si parla dei lavoratori, degli ex interinali di attiva. Mentre tornando alla questione trasporti, il pescara spalato da nove posti, la saga si consola con l'idrovolante. Domani ci sarà la conferenza stampa per presentare questa iniziativa. Poi politica, Forza Italia senza congressi, gli ex AN verso lo strappo. Il caso di Pino ha rivelato un clima da parenti serpenti. Le leadership rinnegate spuntano contatti con Salvini, ma Sospiri frena decisivi gli scenari per le candidature. Dunque c'è Maretta all'interno di Forza Italia. Segna vuoto e false polize per la truffa del vino. Si spacciavano per fornitori di Costa Crociere e ordinavano a cantine grossisti ricche partite di merce senza pagare tre denunciati dalla squadra mobile di Pescara. E poi l'indagine Confcommercio differenziata bene solo Spoltore. Poi l'annuncio sulla strada Parco torna il mercato. Andiamo avanti. Figli, mariti, amanti. Che commedia con Enrighi Tognazzi e Simona Izzo. La coppia d'arte di vita in scena stasera al massimo con uno spettacolo che mette a nudo. Il maschio superfluo. Siamo alla pagina di Pescara area metropolitana. Bimbo travolto, colpa delle ferrovie, la difesa di genitori e nonno del piccolo Francesco Spinelli. L'attacco della prima udienza, linea senza protezioni. E poi Montesilvano, lucele ladro nella rete dell'arma. L'incidente grave un'ottantenne, ferito nel frontale. Ancora avanti, da fuoco alla casa dell'ex compagna. La donna e il figlio rischiano la vita. Stalker alla sbarra. E poi incendio in un pascolo, strage di pecore e capre. 34 capi morti nel rogo. Infine, non solo Mattone, Montesilvano celebra le vetrine storiche. Dalla nonnetta, che nel 1863 preparava il caffè per i ferrovieri, alle mille attività di oggi. E andiamo avanti, siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dalle colonne del messaggero. Calo iscritti, intervenga il ministro. Pezzopane, senatrice, lancia l'allarme sui 2.000 studenti in meno e chiama sindaco e presidente del Consiglio ad attivarsi. La rettrice, spiega, erano gli studenti inattivi che si erano arruolati solo per il taglio delle tasse, senza dare gli esami. E poi antenne sulla collina di Monteluco, un piano per la fine del deregulation. E poi la questione gruppo Facebook, spoliazione del territorio. Nasce, lo rivolgo all'Aquila, questa iniziativa che conta già 700 iscritti. E poi via Vicentini, il bulgaro subito libero, insorge l'IDV, l'episodio avvenuto nel parcheggio. È solo la conferma della situazione diffusa di microcriminalità. Un bulgaro che era stato fermato dalla polizia, libero dopo un giorno. Siamo ancora alla pagina dell'Aquila, l'Aquila provincia, sede dei Vigili del Fuoco. Ecco il bando, il provvedimento interregionale alle opere pubbliche, ha pubblicato l'appalto da 12 milioni per la ricostruzione. Un anno fa il concorso era stato annullato a causa dello smarrimento di una busta. Lavori previsti in due anni. E poi l'inchiesta centrale Biomasse di Bazzano. Il PM chiede l'archiviazione, nuovo manager Asle, cresce la fronda di chi non vuole una figura esterna. Proseguiamo. Avezzano sul Mono, l'ex sindaco Lusi, rivuole 120 mila euro. La richiesta formale è stata fatta nei giorni scorsi al Comune. Siamo a Capistrello, Malente, appena uscito da un grave dissesto economico. In passato aveva detto di non volere alcun compenso. L'attuale primo cittadino, Ciciotti, dice, preferisco stare zitto. E poi Avezzano, retata di spacciatori effettuata dai carabinieri. E ancora Parco Sirente del Velino, corpo forestale, un bilancio dai grandi numeri. Andiamo ancora avanti. Appacentro, casa di riposo a rischio, inizia il trasferimento. E poi Sulmona, Rapino, il PD corteggia Gerosolimo. Infine, confraternita della Trinità, parte la petizione. Siamo alla pagina di Chieti, del messaggero. Quel 3 febbraio rimosso da Chieti, di primio nessun imbarazzo per i reduci, oggi miei alleati. Si parla di questo anniversario. E poi case di riposo, sempre a Chieti. Niente stipendi, e nassi in corsia i controlli dell'arma sulla regolarità dei locali e dei posti accreditati. E poi in basso il processo, Cliniche Lager, la difesa dei lavoratori. Infine, un carnivale super, tra maschere e tradizione, anche a Chieti, in piazza Giambattista Vico. Siamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona. Partiamo da Lanciano. Sosta di sabili, giro di vite sui furbetti, in arrivo nuovi posti riservati. Ma i 3.000 contrassegni in circolazione saranno drasticamente ridotti dal comune. Ortona, offrono una casa al posto del cinema. Mentre a Lanciano, Sevel, bonus medio di oltre 700 euro a febbraio. Si parla ovviamente dell'azienda in Val di Sangro. E poi Vasto, cambia un senso unico in centro. Pericoli all'incrocio con via Michetti e Schiavi d'Abruzzo. Ladri si preparano il caffè nella casa. Appena svaliggiata, evidentemente sicuri che non potesse arrivare nessuno. E poi San Giovanni in Venere, l'abbazia nel polo museale regionale. Il provvedimento è stato firmato dal ministro Franceschini. Ma la chiesa necessita di lavori. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Zoprofilattico, la Lorenzina è preoccupata. La carelle verte sulla nomina di Mattioli alla guida. E poi la morte di Gioele fatali due botte in testa. L'autopsia accerta che per il bambino non si poteva far nulla. E poi svaliggiano il banco, Matt, col trucco della forchetta. Siamo sempre a Teramo. E Movimento 5 Stelle dice impianti sportivi non a norma. Infine carnevale al museo. E polemica per quanto riguarda questa iniziativa. Il consigliere di maggioranza Guido Campana dice in passato avevamo coinvolto gli studenti. E siamo alla pagina di Giulianova, Roseto, Val Vibrata. I portici salvi con i servizi della ASL. L'amministrazione Falchi ha risposto al bando che prevede la dislocazione degli uffici dell'ex ospizio marino. Sempre a Giulianova, donna ripescata in mare, esclusi segni di violenza. In Val Vibrata condanne per nove anni agli spacciatori di droga. E poi Giulianova ancora idea pedonalizzazione. I commercianti dicono no. E a Colonnella si parla di elezioni, sfida Pandolfelli. Ecco la mia lista civica a Roseto. Le comunali, la Ciancaione riparte in tre mosse. Siamo alle pagine dello sport, ma dobbiamo passare al quotidiano La Città di Teramo. E poi andremo a vedere anche i titoli dei quotidiani sportivi. Oggi in edicola, le prime pagine perché ieri si è giocato il turno infrasettimanale della Serie A. Tra l'altro le prime sei in classifica hanno tutte vinto. Ma andiamo per ordine. Partiamo dal quotidiano La Città di Teramo. Già celebrati, la prima pagina, i funerali di Gioele. Cerimonia in forma privata subito dopo l'autopsia per il bimbo di due anni caduto dal trattore del nonno. Andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Abruzzo nel 2018, banda larga dappertutto. La nostra regione sarà una delle prime a realizzare il progetto strategico di rete. E poi trasporti, la questione Ryanair. Il centro-destra chiede un consiglio regionale straordinario proprio su questa questione. C'è allarme per le ricadute negative che potrebbero esserci sull'economia. Incidente di Canzano. I funerali già celebrati in forma privata. La famiglia del piccolo Gioele si stringe nel dolore nella chiesa di Ripattoni subito dopo l'esame autoptico. E poi cronaca. In basso, sventata la trappola, due sportelli Bancomat. I ladri applicano la cosiddetta forchetta alla BPR. Banca Marche. Proseguiamo. Doppio cappottamento in A24, conducenti illesi nel tratto fra Teramo e Valvumano. Due paurosi incidenti stradali in gallerie. Nel tratto primo di corsia d'emergenza. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Siamo alle pagine di Teramo del quotidiano La Città. Brucchi comunque pronto all'arrocco. Se la maggioranza dovesse vacillare su Put, Teramo Ambiente e Bilancio, non si esclude un rimpasto tecnico anticipato. E poi parco fluviale. Siringhe abbandonate tra le assi del ponte. Donazione di organi. Un successone. In una settimana l'anagrafe ha rilasciato 32 nuove carte d'identità con indicazione. E poi la protesta. Domani si tine dei dializzati per ottenere il parcheggio e poi ex Villeroy, nuovo deposito degli scuolabus. Andiamo avanti. Basca e Teramo interessato a gestire il Palasca. La convenzione del palazzetto è scaduta e va avanti in proroga. Obiettivo delle società sportive è abbassare i costi. A proposito di costi politica, buco nell'acqua. Archiviata la denuncia dei 5 Stelle sui palazzetti. Proseguiamo. Tra l'altro su questa vicenda possiamo andare a vedere se la regia è pronta. Un'intervista, un servizio che abbiamo realizzato proprio con l'intervista con l'esponente comunale delle 5 Stelle di Teramo. Vediamo. Grazie al controllo operato dal Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'operato amministrativo sono emerse diverse irregolarità certificate appunto dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza le quali ci dicono che diversi impianti del Comune di Teramo sono innanzitutto sprovvisti del certificato di agibilità e anche sprovvisti della certificazione di idoneità statica la quale appunto certifica che l'edificio è staticamente idoneo all'uso per il quale è destinato. Ora noi da questo chiederemo immediatamente una verifica da parte dell'ufficio tecnico perché non capiamo come faccia il Comune di Teramo a dare in gestione esterna delle strutture che sono prive di questa certificazione ovviamente addossando sulle spalle del gestore ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. Inoltre l'indagine ha fatto emergere il fatto che nell'ultimo periodo in cui il Comune ha gestito gli impianti sportivi le procedure per il calcolo della quota che le società dovevano pagare si è stato fatto in assenza di qualsiasi misura analitica e ovviamente amministrativa corretta in quanto gli importi sono stati calcolati su fogli bianchi in assenza di sottoscrizione sia da parte dei dipendenti comunali sia da parte delle società sportive che ovviamente se ne assumevano la responsabilità e addirittura in alcuni casi sono stati effettuati degli sconti sugli importi senza avere le autodichiarazioni delle società sportive. Noi pensiamo che questo modo di amministrare sia veramente assurdo quando poi ci vengono a dire che mancano i soldi e ovviamente chiederemo una verifica sulla responsabilità di quanto è stato effettuato dagli organi amministrativi nel prossimo question time dell'11 febbraio. Andiamo avanti con la lettura delle pagine dal quotidiano La Città siamo alla pagina che riguarda la provincia 8 anni per la banda dello spaccio 5 patteggiamenti e 4 rinvia giudizio per l'inchiesta della squadra mobile coordinata dal PM Aloisi e poi in basso dai vecchi amministratori le nuove idee per il futuro di Castellalto proseguiamo un patto per realizzare il ponte sul Tronto sottoscritto domani il protocollo d'intesa tra Martinsicuro e San Benedetto e poi i carabinieri il generale Sirimarco visita la compagnia carabinieri di Alba Adriatica andiamo ancora avanti siamo alla pagina di Giuliano Mociano case popolari da Alfonso Sceglie e Guido Baldi come presidente e ancora Giulianova l'arma si sente di casa all'annunziata i rappresentanti dei carabinieri partecipano all'assemblea di quartiere e poi in basso Di Carlo le strategie del turismo passano dal web il presidente della consulta del turismo lancia la proposta per la prossima estate andiamo ancora avanti Silvi la salvezza di Villa Pretaroli passa dal comune l'edificio Liberty cade a pezzi ma non può essere abbattuto potrebbe diventare la nuova sede municipale poi elezione a Roseto lavoro di squadra per realizzare il programma elettorale della Ciancaione in basso ancora Roseto tre territori si uniscono per festeggiare il carnevale pagina della cultura scrivo per raccontare verità scomode questo libro di Maura Chiulli in questa pagina andiamo a vedere lo sport con il calcio in questo caso il calcio bianco-rosso il Teramo di Paolo Antonio rimette il Savona nel Mirino suo è il primo gol nella gara che lo scorso maggio diede la Serie B al Teramo per me è stato un soglio noi andiamo ad ascoltare proprio il giocatore del Teramo adesso sicuramente va bene abbiamo guadagnato due posizioni che però comunque ci permettono di di stare un po' più sereni al ridosso della zona bassa secondo me questo mese di febbraio e il mese che verrà di marzo saranno mesi che ci faranno capire se questo Teramo può ambire a qualcosa di più della salvezza cioè mi riferisco ai playoff ma adesso sì da quando il mister comunque mi dà la possibilità di scendere in campo costantemente mi sono più calato nel ruolo diciamo che mi sento più sicuro quindi riesco a dare il meglio di me anche nella prima parte sono stato adottato un po' un po' da mezzala un po' da esterno un po' così quindi non sono andato molto bene però adesso negli ultimi mesi mi sento uno importante della squadra come sono tutti e spero che sto ripagando la fiducia del mister come ci arriviamo sicuramente carichi perché dopo passato l'anno siamo una squadra diversa anche con i due acquisti ci hanno dato una mentalità diversa quindi sicuramente adesso siamo una squadra più compatta anche fuori casa e lo si è visto nella trasferta di Pisa per quanto riguarda il gol dell'anno scorso vabbè penso voglio ricordarlo però ricordo che eravamo comunque ben ricordi di una vittoria di una vittoria storica però adesso il passato è passato purtroppo quindi dobbiamo pensare a questa trasferta di sabato che diventa importantissima vabbè per me era un sogno sinceramente andare sia in Bicolteramo che comunque segnare il gol decisivo però nella mia testa sicuramente non me lo leva nessuno perché so la squadra che eravamo e so che quel campionato l'abbiamo stravinto e meritato sul campo quindi resta una bellissima gioia vera e comunque incancellabile siamo alle pagine dello sport del centro poi vedremo anche quelle del messaggero partiamo dallo sport nazionale perché ieri si sono giocate le gare del turno infrasettimanale del campionato di Serie A andiamo a vedere i risultati Verona batte Atalanta 2 a 1 Frosinone Bologna 1 a 0 Fiorentina Carpi 2 a 1 Inter Chievo 1 a 0 Juventus Genoa 1 a 0 Palermo Milan 0 a 2 Lazio Napoli 0 a 2 Sassuolo Roma 0 a 2 giocata l'altro ieri Sampdoria Torino 2 a 2 Empoli Udinese 1 a 1 vediamo anche la classifica del campionato di Serie A con il Napoli che comanda con 53 punti Juventus 51 poi staccata la Fiorentina 45 Inter 44 Roma 41 Milan 39 questi i primi sei posti poi il Sassuolo di Eusebio Di Francesco staccato con l'Empoli a 33 Lazio 32 Bologna 29 Torino 28 Atalanta Chievo 27 Udinese 26 Palermo 29 Genova Sampdoria 24 e poi le ultime tre Carpi e Frosinone 19 Verona 14 Siamo alla pagina dello sport che riguarda il Pescara Oddo corre per imitare le imprese di Zeman e il Bomber Lapadula insegue le prodezze di Immobile del 2012 dunque Pescara a confronto e Pescara di Zeman è quello di Oddo ma si guarda ovviamente la gara di sabato prossimo alla Rechi vedete in basso il titolo che dice Mazzotta fiuta subito una maglia da titolare il nuovo tecnico della Salernitana invece Menichini dice voglio sorrisi corse d'agonismo è stato esonerato torrente è stato richiamato sulla panchina Campana Menichini per quanto riguarda il Pescara ricordiamo che è squalificato ma era anche infortunato Campagnaro che dunque non ci sarà e siamo a Lanciano mai ho bisogno si decide la prossima settimana le parti si sono aggiornate c'è da limare qualcosa tra domanda ed offerta ma incombe la scadenza dei pagamenti degli stipendi e dei contributi a metà mese dunque ci potrebbero essere ci potrebbero essere novità per quanto riguarda il Lanciano chi è l'imprenditore che vuole la Virtus edilizia e settore alberghiero ma la sua passione è il calcio andiamo avanti parliamo di calcio di eccellenza perché ieri si è giocata la ventitresima giornata turno infrasettimanale anche per quanto riguarda l'eccellenza come abbiamo fatto per la Serie A vediamo anche qui i risultati della giornata Martinsicuro Alba Adriatica 4 a 0 Torrese Francavilla 1 a 1 Montorio Miglianico 2 a 2 Cupello Morodoro 3 a 1 Acquessapone Paterno 1 a 0 Val di Sangro Angolana 0 a 0 Pineto San Salvo 0 a 0 Celano San Buceto 2 a 3 il posticipo di oggi delle 15 vedrà la capolista Vastese di scena Capistrello capolista che può allungare in caso di successo vediamo la classifica Vastese 52 Paterno 49 San Salvo 41 Pineto 39 Martinsicuro 37 Angolana 36 Morodoro 35 Capistrello 32 Alba Adriatica 31 Miglianico 29 Cupello 28 San Buceto 26 Francavilla 23 Montorio 22 Torrese 21 Acquessapone 20 Val di Sangro 18 Chiude il Celano con 15 punti noi andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero e poi chiuderemo l'edizione odierna di mattino 6 a Salerno in palio la Serie A Alessandro Del Grosso è stato il leader dei campani dovevo passare al Pescara e poi dice Oddo mi ricorda tantissimo Zeman Oddo sorride Caprari rientra in gruppo così come Memushai dunque recuperati i due giocatori che avevano accusato qualche problema fisico e poi parliamo del Lanciano il patron Maio benedice Maragliulo nuovo mister ieri visita del patron durante l'allenamento dei rossoneri l'Aquila contatto con la nuova accordata e il patron Chiodi sono persone serie bisogna capire in che modo potranno entrare a dare una mano in società dunque potrebbero esserci nuovi ingressi nell'Aquila di Paolo Antonio un teramo molto diverso dall'inizio lo abbiamo ascoltato qualche istante fa e poi paterno disco rosso oggi la vastese può consolidare la vetta abbiamo visto i risultati del campionato regionale di eccellenza siamo giunti al termine perché ci sono le pagine di sport nazionale dunque noi possiamo chiudere qui l'appuntamento del 4 febbraio con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito e vi ricordo il prossimo appuntamento informativo di oggi alle 14 come sempre con la prima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti